SIGLA 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 Abbiamo spazzolato qui, qui, un metro quadro, due metri massimo. Adesso facciamo tutto il resto. Tutte radici queste. Dai, rivolto anche l'occhio. Stiamo estraendo la sabbia. Magco fossimo una cava. Vada qui, quanta roba. Figa. Figa. Adesso stiamo facendo una piccola modifica. Abbiamo tolti i tuoi, mettiamo in costa il mattoncino bianco. Qui sopra mettiamo tutti i nostri mattoncini. Stricchete, tracchete, tracchete, tracchete. Da Greenland ci hanno diventato i Whiteland. Abbiamo appoggiato tutti i mattoni, li abbiamo tagliati. E adesso li stiamo incollando. Purtroppo li abbiamo dovuti tagliare a forma del vecchio tuffo. Quello lì sotto che comanda. Per far coincidere con il vecchio tappeto che non si può tagliare di più. Quindi la sagoma è così, imperfetta. Abbiamo rifatto il fondo drenante qui perché proprio non c'era. Abbiamo messo 10 centimetri di piaia. Ok. Abbiamo messo 10 centimetri di piaia. 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 stiamo compattando il terreno dopo che abbiamo messo il drenante con la piastra vibrante ed ecco qua il giardinetto rigenerato abbiamo rimesso lo stesso tappeto dopo averlo pulito, tolto abbiamo fatto un fondo drenante abbiamo messo i mattoncini bianchi abbiamo aggiunto tre piantine là in fondo tolte tre piantine aggiunto del lapido vulcanico poi abbiamo rimesso il prato l'abbiamo inchiodato che non aveva chiodi l'abbiamo ripulito con una spazzolatura lo abbiamo sabbiato bene spazzolato ed ecco un tappeto che doveva essere buttato invece è qua che è bellissimo dopo dieci anni lo abbiamo ringiovanito peccato che non c'è una buona luce perché non mi piace il video che sta venendo ma in realtà è molto bello grazie a tutti grazie a tutti